Buongiorno e bentrovati all'ultimo appuntamento settimanale con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. Scorriamo insieme i titoli di oggi, sabato 23 settembre. In primo piano, un po' su tutti i giornali, ritroviamo la notizia della scomparsa dell'ex capo dello Stato, Giorgio Napolitano, a 98 anni. Ma troviamo anche le notizie che riguardano l'accordo all'interno della coalizione di governo sulla tassazione degli extra profitti degli istituti di credito, ma soprattutto le parole di Papa Francesco da Marsiglia sulla questione migranti a cui fa da contraltare la decisione del governo di imporre una tassa agli migranti che non vogliano finire nei CPR. Una decisione che desta più di qualche perplessità. Andiamo sul Corriere della Sera che titola appunto Addio a Napolitano, il presidente delle scelte difficili. È morto ieri sera alle 19.45, il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Aveva 98 anni e lo vediamo proprio in questa fotografia. Cambia la tassa sulle banche, gli istituti che rafforzano il capitale non pagano debito, rischio da 130 miliardi. Accordo raggiunto nella maggioranza a Giorgetti sulla manovra, basta prebende che illudono le persone ed è una decisione sulla quale ovviamente ci si dovrà confrontare in Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni. E poi l'altra vicenda. 5.000 euro per evitare i CPR che sono i centri di permanenza per il rimpatrio. Un caso, la norma sui migranti. Una garanzia finanziaria di 5.000 euro per evitare di finire in un CPR, ma sul decreto è polemica per la segretaria Dem e Lichlein, va contro il diritto internazionale. Dall'Unione Europea, 127 milioni intanto alla Tunisia. E poi c'è un'altra notizia importante. Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile, si aggravano le condizioni del padrino della mafia. E passiamo a Repubblica. Repubblica che titola ovviamente su Giorgio Napolitano, strappo con Berlino, Meloni all'angolo. La ministra dell'interno tedesca Pfizer esorta a Roma a rispettare il trattato di Dublino. Palazzo Chigi esprime stupore e chiede chiarimenti sui soldi alle organizzazioni non governative che operano in Italia. E il Papa da Marsiglia. Chi ostacola i salvataggi odia il fratello. E c'è anche una questione che riguarda la legge di bilancio. Il super bonus si mangia il tesoretto, nuove sanatorie e condoni in vista. Ma come avete visto sulla parte destra della prima pagina di Repubblica c'è la grande fotografia di Giorgio Napolitano. Addio al presidente che amava l'Europa. Maurizio Molinari scrive. A fine maggio del 2010 il presidente Giorgio Napolitano arriva a Washington in uno dei momenti più delicati dei rapporti fra Italia e Stati Uniti. Alla Casa Bianca c'è Barack Obama, il cui portavoce definiscono il premier Silvio Berlusconi radioattivo per la sua inaffidabilità politica e personale. E poi il boss delle stragi Messina Denaro in coma irreversibile. E passiamo all'avvenire il quotidiano dei Vescovi italiani che dedica una falsa apertura alla scomparsa del capo dello Stato, dell'ex capo dello Stato Giorgio Napolitano, morto a 98 anni dopo giorni di agonia, l'omaggio di Mattarella, Papa Francesco e delle istituzioni. Il titolo è il lascito di Napolitano, rifare bella la politica. Ma il titolo principale è sul vivio di civiltà, il Papa a Marsiglia nel Mediterraneo come migranti è affogata anche la dignità umana. Grazie alle organizzazioni non governative non va ostacolato chi salva le persone, abbandonarle sarebbe un crimine. L'incontro di Vescovi e giovani nella città francese, il Cardinale Bassetti, nessuno Stato va lasciato solo. E allora leggiamo Gianni Cardinale, l'inviato a Marsiglia del quotidiano della CEI. Il Mediterraneo, questo splendido mare, è un enorme cimitero dove molti fratelli e sorelle, privati persino del diritto di avere una tomba, così a venire seppellita è solo la dignità umana. E di fronte a questa tragedia dei naufragi, a questi drammi dei naufragi dovuti a traffici odiosi e al fanatismo dell'indifferenza, siamo tutti davanti ad un bivio di civiltà, tra la fraternità che feconda di bene la comunità umana e appunto l'indifferenza che insanguina il Mediterraneo. Perciò le persone che rischiano di annegare quando vengono abbandonate sulle onde devono essere soccorse. Ma intanto c'è il decreto ministeriale. Mala cauzione per i rifugiati, 5.000 euro per evitare la reclusione in un centro, ne scrive Daniela Fassini. La libertà ha un prezzo, soprattutto se si è migranti giunti in Italia da paesi sicuri e non si vuol finire in un centro in attesa dell'esito della domanda di protezione. L'Italia chiede infatti una fideiussione bancaria o assicurativa da 4.938 euro che dovrà essere versata dal richiedente asilo. L'ultima novità in materia di migranti, messa a punto dal Viminale pubblicata in Gazzetta Ufficiale, scatena una nuova bufera e ci mancherebbe altro. La terra del noi, quell'altra economia del grano solitane, scrive Luigino Bruni, parla anche Francesco Gesualdi di ambiente salute, garantire a tutti l'accesso ad una cucina pulita. E poi la sentenza che in Brasile fa molto discutere, la terra rimanga agli indigeni. E passiamo al Sole 24 Ore, il giornale di Confindustria, quindi si occupa dei temi di economia. Sulla parte destra troviamo l'addio a Giorgio Napolitano, il primo presidente eletto due volte, ma è il titolo principale dedicato ai BTP, buoni del tesoro acquisti italiani per 120 miliardi, che rappresentano il 6% della ricchezza finanziaria totale. Tra aprile e luglio 2023, nel periodo luglio 2022-luglio 2023, i risparmiatori italiani e le società non finanziarie hanno aumentato lo stock di BTP in portafoglio di 120 miliardi di euro, ma solo il 6% della ricchezza finanziaria degli italiani è in bond. Era il 18% nel 2012, contemporaneamente non mancano gli acquisti da parte degli investitori esteri, perché tra aprile e luglio di quest'anno hanno comprato titoli di Stato italiani per 40 miliardi. Poi a centropagina questa fotografia di un'auto elettrica Tesla e LG in India per batterie e auto elettriche. Si parla di energia e geopolitica. Il primo paese al mondo per popolazione è solo quinto per il prodotto interno lordo, ma ha l'ambizione di scalare posizioni fino a raggiungere il terzo posto entro cinque anni. E poi ci sono alcune decisioni che riguardano il governo italiano. Bollette, sostegno extra per 4 milioni di famiglie. Salta il bonus riscaldamento. Si va verso il nuovo decreto. Con il nuovo decreto atteso lunedì in Consiglio dei Ministri arriva per 4 milioni di famiglie titolari del bonus sociale e elettrico un contributo aggiuntivo crescente in base al numero dei componenti. Salta il bonus riscaldamento. Accordo anti-inflazione, sindacati coinvolti nel monitoraggio. C'è stato un vertice a Palazzo Chigi. E invece la questione delle banche. In frenata, le cessioni di crediti deteriorati. Lo stock sale a 311 miliardi. I crediti deteriorati crescono, ma a ritmi più lenti del previsto. Merito di un'economia italiana ancora resiliente, con un tasso di deterioramento del credito ai minimi dal 2006. Giù le cessioni di portafogli sul mercato e lo stock di NPEI. E poi passiamo al quotidiano della Puglia e Basilicata, la gazzetta del Mezzogiorno, che dedica l'apertura a destra della spalla, dedicata appunto all'addio a Napolitano, gigante della politica, dal Partito Comunista Alquirinale. Aveva 98 anni, ne scrive Gaetano Quagliariello. Giorgio Napolitano è stato l'uomo politico legato agli esordi della storia repubblicana, che ha maggiormente influenzato quel periodo della storia d'Italia, comunemente denominata Seconda Repubblica. Nella prima parte della sua lunghissima carriera è stato un esponente di primo piano del Partito Comunista ed è stato anche due volte capo dello Stato. Ma il titolo principale della gazzetta del Mezzogiorno riguarda l'allarme turismo. Gli esperti, senza voli, il comparto è a rischio. L'accusa di Fratelli d'Italia è colpa della regione Puglia, naturalmente. E poi alcuni titoli. L'ex Ilva, futuro incerto, il governo convoca un vertice, il monito di Confindustria, servono più investimenti al sud, il codice degli appalti, le novità non convincono. E poi una questione politica tra Emiliano e Stefano, riprende il dialogo. La notizia del coma irreversibile a nove mesi dall'arresto per Messina Denaro, la fine del padrino dei misteri. E poi c'è anche l'indagine sul magistrato che aveva una serie di infinita di collezione, una serie infinita di armi. Si parla di De Benedictis, che è stato condannato a nove anni in appello il giudice e le armi ridotta la condanna. E passiamo all'altro giornale che si occupa di Puglia e Basilicata, l'edicola del sud. Convergere su un solo nome si può. A Bari il confronto tra i big della sinistra, promosso dalle officine progressiste. Leggiamo le primarie solo in caso di emergenza. Meglio convergere su un'unica personalità, dice il sindaco uscente Antonio De Caro, ma a fornire le indicazioni sul come è il governatore Michele Emiliano. Bisogna trovare nuove idee, personalità. Il tema è quello scottante, l'incapacità del centro-sinistra di fare sintesi in vista delle elezioni amministrative dell'anno prossimo a Bari. Il contesto è quello delle officine progressiste. Ma il titolo principale dedicato alla scomparsa di Giorgio Napolitano, l'ultimo comunista, morto a 98 anni, il presidente della Repubblica Europeista, il primo eletto due volte. E poi il baby boss, si parla di Bari, aggredisce la ex, il ventenne arrestato e già scarcerato, blitz nel quartiere Iappigia di Bari. E passiamo al resto del Carlino, giornale del gruppo quotidiano nazionale. Questa è l'edizione nazionale che titola Migranti. Spunta la libertà su cauzione. I richiedenti di asilo evitano i rimpatri se versano una garanzia di 5.000 euro. Lo prevede il governo, il PD, è una crudeltà. Berlino finanzia le organizzazioni non governative che raccolgono i profughi in mare e l'Italia chiede spiegazioni. Papa Francesco benedice chi soccorre i naufraghi. E poi a tutta pagina questa fotografia di Giorgio I, il primo presidente emerito espirato in una clinica romana dopo giorni di agonia. Unanime il cordoglio del mondo politico, primo ex comunista ad entrare al Viminale, poi a salire al Colle, il primo ad essere rieletto. E passiamo al gruppo dei giornali della provincia. In questo caso è Sondrio che titola Lavoro, c'è il problema a casa. Chi arriva non trova alloggi. L'allarme della CISL. Personali da fuori provincia, aziende in difficoltà. Mannodopera manca. Lavoratori che sempre più spesso arrivano da fuori provincia. È una questione che comincia a rappresentare un problema, la casa. Se nelle grandi città come Milano il problema riguarda gli alloggi troppo cari per gli studenti, nelle città turistiche la massiccia presenza di case vacanze, in provincia di Sondrio a preoccupare sono i numeri esigui di appartamenti in affitto rispetto invece alla quantità di quelli in vendita. La difficoltà a trovare un'abitazione è sempre più spesso legata ai lavoratori, dice Davide Fumagalli, segretario provinciale della CISL, ed è trasversale. Finora eravamo abituati ad avere personali che arrivava da fuori provincia, principalmente per l'agroalimentare e il turismo. Ora la situazione si è aggravata perché oltre ad interessare il personale sociosanitario, quello scolastico, riguarda anche il settore manifatturiero. Le aziende, sempre più spesso, si rivolgono a personali di fuori provincia, che si tratti di italiani o di stranieri, ma queste persone fanno fatica a trovare abitazioni in affitto, pur potendo dare garanzia di pagamento perché in possesso di un'occupazione. Se storicamente la difficoltà nel trovare un alloggio riguardavano gli insegnanti in Alta Valle, soprattutto a Livigno, il campanello d'allarme ora suona anche in Val Chiavenna e, per qualche verso, anche il tiranese, dove l'esplosione del turismo legato al trenino rosso della Bernina ha convinto molti proprietari di appartamenti a riconvertirli in case vacanze. È un problema che riguarda un po' tutto il nord Italia, dove c'è una grande richiesta di mano d'opera e una scarsa disponibilità di alloggi. E passiamo alla provincia di Lecco. Vedete a centropagina emergenza per il numifragio, allagamenti nel Lecchese. Il forte temporale nel pomeriggio di ieri ha anche mandato in tilt la circolazione. Fu riuscito il torrente Caldone, una trentina agli interventi dei vigili del fuoco nelle Lecchese, allagata alla zona del sottopasso in corso Carlo Alberto verso Renico. Antifurti saltati, con sirene a tutto volume in centro città, cantini allagate a Maggianico e in viale Turati. Ma il titolo principale è dedicato alla cronaca. Operazione Andrangheta, quattro indagati lecchesi. Maxi Blitz, da Catanzaro al Val Madrera e alla Brianza, indaga Gratteri. Da Catanzaro a Crotone, da Galbiati a Oggiono, passando per Val Madrera, ha coinvolto anche Lecco e ben quattro lecchesi. Carpantos, la nuova Maxi Operazione contro l'Andrangheta, condotta da 400 carabinieri in tutta Italia, coordinati dalla Direzione Destrettuale Antimafia di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri. Il Blitz è scattato nella notte tra giovedì e ieri, venerdì, nei confronti di 52 persone, di cui 38 portate in carcere, 6 posti ai domiciliari e 8 con l'obbligo di presentazione della Polizia Giudiziaria. Associazione di tipo dranghetistico, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti caratterizzante dalla disponibilità di armi, ma anche estorsione, rapina mano armata, ricettazione, riciclaggio e intestazione fittizia di beni, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose. Questi i vari capi di imputazione ipotizzati dai magistrati, l'indagine ha permesso di documentare l'esistenza della cosca dell'Andragedra a Carpino di Petronà. E passiamo alla provincia di Como. L'urbanistica va a rapinese, tutti contro, inopportuno, le opposizioni e un immobiliarista. Il sindaco critica strumentale. Leggiamo. La decisione del sindaco di Como Alessandro Rapinese, nel corso del rimpasto di Giunta, di togliere la delica all'urbanistica ad Enrico Colombo per occuparsene personalmente, ha sollevato una polemica molto pesante tra le opposizioni che vanno dal centro-destra al centro-sinistra. Tutti, con modi e toni diversi, parlano di decisione inopportuna, in quanto Rapinese ha sempre fatto l'immobiliarista. Dal punto di vista normativo, ma specificato, non ci sono incompatibilità o prescrizioni, ma ciò non toglie che si tratti del tema più discusso in queste ore della politica cittadina. L'urbanistica, dice la capogruppo del PD, Patrizia Lissi, è una delega molto importante. Se è vero che non c'è incompatibilità, il fatto che a detenerla sia il sindaco di professioni agente immobiliare lascia un grosso punto di domanda. Parliamo di una situazione di inopportunità e poi via via il resto delle considerazioni. Passiamo a Bergamo, con l'eco di Bergamo. Addio a Giorgio Napolitano, una vita al servizio del Paese. Il presidente emerito si è spento a 98 anni l'abbraccio di Bergamo nel 2011, a cui si riferisce proprio questa fotografia. E intanto poi c'è spazio al nubifragio, fiumi a livello di guardia, frana a Gandellino, sette famiglie isolate. Strada per la frazione Foppi di Gandellino, chiusa ieri per uno smottamento con un principio di cedivento del manto stradale e con viabilità compromessa. Sono rimaste isolate sette famiglie, in tutto 17 persone, che si trovano al sicuro nelle proprie case, al di sopra della strada comunale interessata dallo smottamento. Si tratta della via che in territorio di Gandinello, da Gromo San Marino, conduce a Foppi. Poi via via il resto della descrizione di questa vicenda. E passiamo al messaggero, il giornale della Capitale, che vedete dedica l'apertura al primo presidente eletto due volte. Si è spento a Roma Giorgio Napolitano, da Botteghe Oscure, che era la sede della segreteria del Partito Comunista Italiano, ai dieci anni alla guida del Quirinale. E poi nelle pagine interne ci sono una serie di servizi dedicati a questa vicenda, con il ritratto, il garantista amante del dialogo, l'omaggio Bipartisan, Mattarella e Meloni, custode della carta. E poi c'è anche il ricordo di Casini, un atlantista sponsor dell'Europa. Ma il titolo principale dedicato alla tassazione degli extra profitti degli istituti di credito cambia la legge. Accordo tra Meloni, Tajani e Giorgetti arriva all'emendamento che modifica il decreto. Tutela per le piccole banche l'importo della tassa trattenuto per rafforzare il patrimonio. E poi c'è la vicenda dei migranti. Berlino con le organizzazioni non governative e polemica, cauzione di 5 mila euro per evitare i centri. La reazione di Palazzo Chigi, grave anomalia. E poi a Caivano, anche nel nome di Siani, un intervento del premier Meloni per l'anniversario del delitto. Era la sera del 23 settembre 1985, scrive proprio Giorgia Meloni, quando la notizia dell'omicidio di Giancarlo Siani irrompeva nei notiziari italiani. La camorra aveva commesso l'ennesimo efferato delitto. Ma nell'atroce contabilità dei crimini compiuti dalla criminalità organizzata, l'assassinio di un giovane giornalista napoletano si era trasformata subito in qualcosa che non si era mai visto. Era la prima volta, infatti, e poi si prosegue nelle pagine interne. E c'è poi la prima pagina del mattino, il giornale di Napoli e della Campania. Il presidente di Napoli è proprio il titolo del mattino. Giorgio Napolitano si è spento a 98 anni dal Partito Comunista fino al doppio mandato al Quirinale. Il cordoglio del mondo della politica e del Papa, il legame indissolubile con la sua città. Poi ci sono una serie di ricordi e poi ci sono anche le parole del premier Giorgia Meloni sull'anniversario della morte di Siani. E poi tassa extra profitti si cambia, tutelate le piccole banche. In arrivo all'emendamento gli istituti potranno trattenere l'importo per rafforzare il proprio patrimonio. E poi c'è spazio anche alla cronaca con rapina shock con sequestro per l'attrice e l'ex ministro. Napoli paura in casa per Di Benedetto e Urbani. E passiamo, chiudiamo con il Quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia, il giornale diretto da Roberto Napolitano che si occupa dell'addio a Giorgio Napolitano, primo presidente timoniere. Il presidente merito della Repubblica si è spento a 98 anni, cordoglio unanime. Ma il titolo principale, che fa riferimento all'editoriale consueto in prima pagina del direttore napoletano, chiedete scusa a Draghi, il secondo miracolo economico italiano che nessuno ha voluto vedere. Crescita del PIL più 8,3%, crescita del PIL nel 1961 più 8,3%, la crescita accumulata del PIL 21-22 più 12,3%. Leggiamo. La crescita nel 2021 dell'8,3% eguaglia il primato italiano del 1961. Cumulata con quella del 2022 sale al 12,3%, molto meglio delle grandi economie europee, anche come superamento del PIL 2019. Passiamo da ultimi a primi. Il miracolo nasce dalla fiducia in Draghi, trasferitasi su investimenti e consumi. Come ricompensa lo abbiamo mandato a casa. È plateale il contrasto tra il motore ai massimi alimentato dalla benzina della fiducia di allora e quello di oggi ai minimi sotto gli occhi dei mercati. Il rendimento sui nostri titoli sale e siamo umiliati dal confronto con Atene, non con Parigi. E poi gli effetti sul ricalcolo del PIL 2021. Il super bonus impone una manovra in salita. Deficit, nessuno sconto. L'ultimo titolo, il ministro Tajani, ha impresso una forte spinta al piano Mattei, l'intervista all'ambasciatore Umberto Vattani. Era questo appunto l'ultimo argomento del quale ci siamo occupati in questa rassegna stampa, che torna come sempre lunedì, stessa ora, stessa rete. Per il momento non andate via e vi auguro una buona giornata e soprattutto un buon weekend. Grazie a tutti. Grazie a tutti.